Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La cultura prova a battere il Covid e cerca di ripartire dopo un periodo di sacrificio. Si riaccendono le luci sul patrimonio storico-artistico di Ascoli con la riapertura dopo tre mesi della Pinacoteca Civica e del Forte Malatesta con il Museo dell'Alto Medioevo. Si riparte anche con alcune novità, tra queste l'iniziativa all'arte di venerdì. A spiegarci l'importanza dell'iniziativa è l'assessore alla cultura del comune di Ascoli, Donatella Ferretti. Siamo molto molto felici di questa riapertura. Tra l'altro stiamo già procedendo ad una ristrutturazione della nostra rete museale con alcuni lavori di adeguamento alla Galleria d'Arte Licini, il rifacimento dell'illuminazione. Quindi cerchiamo di prepararci al meglio per accogliere di nuovo la nostra utenza e i nostri visitatori. Quindi salutiamo con molta gioia questa riapertura alle attività culturali che speriamo di poter portare avanti al meglio anche in vista di quell'obiettivo ambizioso che ci siamo posti ovvero di accreditare Ascoli come capitale italiana della cultura. Si inizierà dalla Pinacoteca Civica con una visita guidata a cura del professor Papetti dal titolo Giovanna Garzoni, la signora del barocco. Cerchiamo appunto di creare degli eventi il venerdì pomeriggio quando pensiamo che le persone siano un po' più libere anche dagli impegni familiari e lavorativi. Quindi incomincieremo da venerdì prossimo e si parlerà appunto di Giovanna Garzoni. Qui vediamo il ritratto della famosa pittrice Ascolana fatto nel 1600 a Roma da Carlo Maratti. Vedremo anche una miniatura della Garzoni che abbiamo qui in museo che è in fase di restauro. Queste opere tra qualche giorno partiranno per una grande mostra che si terrà a Milano al Palazzo Reale dedicata alle donne pittrici del 600 in Italia e tra di loro appunto la figura di Giovanna Garzoni emerge come quella di un artista di primissimo piano. Quindi tutti i venerdì pomeriggi ci saranno appunto questi venerdì dell'arte perché purtroppo l'arte di sabato e domenica non si potrà fruire quando le persone sarebbero più libere.